Salve, mi chiamo Nelio Borcea, ho 17 anni, vengo da Villanova di Guidogna che è vicino a Roma. Ho deciso di partecipare a Miss Muretto più per una sfida personale. Ho praticato molti sport, a karate, a nuoto, a danza. Raga, votatemi perché sono bella, quello che vi pare, sono proprio boda. Grazie a tutti.